traina al dentice questa sera siamo il martedì facciamo un nuovo video questa volta parleremo con fabrizio fabrizio schirru eccolo qua ciao fabrizio buonasera a tutti questa sera parleremo della traina al dentice però sarà l'ultimo martedì di sera perché i prossimi martedì ci saremo sempre ma lo faremo la mattina alle 7 fabrizio ci racconti qualcosa in generale di questa bellissima pesca che faccio anch'io a guarda che ti avverto che oggi non ti lascerò parlare troppo 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 come al solito perché questa pesca piace molto anche a me e ho già visto che abbiamo tante cose diciamo un po diverse tra me e te quindi ogni tanto ti dovrò fermare e vedere magari di aggiungere o togliere qualcosa vedremo comunque quindi come al solito e come sempre come al solito esattamente non cambia nulla cambia nulla vai fabrizio allora facciamo facciamo un discorso un po un po generale allora il dentice sicuramente perlomeno qui da noi in sardegna sicuramente il pesce principe delle nostre pescate a traina ragioniamo su secondo me 60 70 per cento dei pesci che noi allammiamo a traina sardegna sono dentici poi conoscendo tante persone del resto dell'italia mi sono accorto che invece non è esattamente così in tutti i posti perché in altri in altre regioni sicuramente il dentice è molto meno facile da prendere da noi tutto sommato il pesce più comune questo non vuol dire che il dentice sia facile ci sono state tantissime uscite dove noi li abbiamo marcati nel nostro ecoscandaglio e non siamo riusciti minimamente a farli mangiare altre volte invece decisamente più facile quindi oggi andiamo a vedere un pochettino di trucchi di tecniche e andiamo a vedere poi tutti i vari calamenti e le esche che andremo a utilizzare partiamo subito dal dal discorso che come la maggior parte di pesci insidiare il dentice sarebbe sempre il periodo ottimale è l'alba oppure il tramonto perché questo pesce sicuramente in quei momenti là è molto attivo e spesso e volentieri con la luce bassa è anche un pochettino meno meno attento ovviamente per poter riuscire a andare a pescare all'alba devi avere sicuramente le esche già pronte dal giorno prima e quindi sicuramente dovrei dovremmo andare a fare magari la sera prima a traina e averle vive nella nostra vasca del vivo l'alba è sicuramente il momento magico anche perché spesso e volentieri all'alba non ci sono i disturbatori quindi spesso e volentieri non troviamo le tanute ovviamente parliamo di proprio alle prime luci del sole poi dopo una mezz'oretta arrivano sicuramente a frotte quindi per noi sarà un po più difficile cosa dire penso che anche nelle zone dove tu vai tu il problema sia quello diciamo sì diciamo che le tanute da noi per dire il vero sono più concentrate in alcune zone allora premessa io pesco e soprattutto in croazia questo tipo di tecnica in adriatico io la faccio soprattutto in croazia ho la fortuna di avere una base allus in piccolo che si trova in dalmazia e lì la pesca al dentice è veramente facilitata abbiamo tantissime isole diverse secche è un habitat perfetto diciamo che normalmente ogni uscita si hanno minimo 12 strike quindi devo dire che le zone sono veramente buone tra l'altro questa tecnica la traina al dentice si è evoluta tantissimo negli anni e ultimamente cioè negli ultimi 3-4 anni non è più così facile pescare il dentice nonostante che il dentice sia comunque un pesce frequente cioè ce n'è comunque ce ne sono tanti di dentici ma è molto più difficile farli mangiare e questo è sicuramente un vantaggio anche se tanti possono pensare che non lo sia io lo reputo un vantaggio perché vuol dire che ci sono meno persone in grado di riuscire a pescarli tanti pescatori soprattutto quelli magari un po le prime armi eccetera fanno diversi errori e non riescono a pescare il dentice proprio per questo motivo adesso invece quando si hanno diciamo le attrezzature giuste le tecniche giuste un po di esperienza può diventare quasi più facile perché ce ne sono diversi ce ne sono tanti qualcuno veramente anche grande e quindi le soddisfazioni in pesca si possono trovare abbastanza facilmente ok andiamo a mettere qualche punto importante per iniziare a parlare di questa pesca per gli amici che stanno iniziando in questa schermata vedete la velocità noi qui abbiamo messo dal da 0 5 a un nodo e mezzo un nodo e mezzo perché l'abbiamo detto tante volte dopo il nodo e mezzo quasi tutte le esche tendono a girare su se stesse quindi non sono più non va non va più bene quindi noi dovremmo sempre cercare di stare entro il nodo e mezzo poi abbiamo messo 1 0 5 la verità che questa pesca si può fare anche a barca praticamente quasi ferma scarroccio ho tanti amici che non non usano il motore e vanno proprio a scarroccio spesso e volentieri li ho visti prendere pesci completamente fermi perché poi alla fin fine quello che conta è il l'esca che noi abbiamo viva che se il dentice vuole mangiare attacca un calamaro sia che sia fermo sia che sia in movimento però se andiamo a parlare di train a vera e propria almeno 1 0 5 lo possiamo utilizzare e oggi è diventato semplice perché abbiamo tanti tanti modi per poter tenere bassa la velocità motore di prua easy troll possiamo mettere le le ancore galleggianti oppure possiamo andare in corrente e più o meno andremo a quella velocità quindi abbiamo già tante soluzioni cosa un'altra cosa molto importante è vedere se la nostra esca è in pesca è l'unico modo per vedere se la nostra pesca e se la nostra esca in pesca in pesca vuol dire vicino al fondo e vedere il nostro trecciato come entra in acqua qui vedete che abbiamo disegnato un angolo a 45 gradi quindi se siamo sui 45 gradi la nostra esca dovrebbe essere più o meno alla profondità che noi decidiamo se questo angolo si apre quindi diventa superiore vuol dire che la nostra esca sta tendendo a salire quindi noi dovremmo o decelerare oppure dovremmo dargli un po più di filo per rimetterla magari vicino al fondo poi vi spiego perché sto andando puntualizzando questo voi vedete sotto che io ho messo da 2 a 4 metri quello un riferimento molto molto personale io quando pesco cerco di tenere il calamaro la seppia o il pesce più vicino al fondo possibile poi alla fine non so se una cosa reale o semplicemente la mia convinzione ma secondo me un calamaro una seppia un pesce radente al fondo sono più appetibili per denti c'è scusa scusa una cosa però fabrizio tu mi parli di tenere l'esca vicino al fondo con un angolo di 45 gradi in realtà io per tenere l'esca vicino al fondo faccio battere il piombo sul fondo e controllo l'altezza perché per te è così importante 45 gradi perché perché poi quando sei in movimento non puoi rimanere con la lenza dritta nel momento in cui noi facciamo scendere il il piombo poi nel momento in cui tu richiudi mulinello devi sempre controllare l'entrata del filo in acqua altrimenti non sai mai dov'è io stesso che pesco a canna in mano tantissime volte magari parlando mi distraggo e non mi accorgo che la nostra esca è salita perché magari abbiamo preso una corrente un po più forte magari chi stava guidando forse è andato un po sopra il nodo e mezzo e a quel punto io me ne accorgo subito con con l'entrata del del filo in acqua poi sì in quel momento apro il mulinello riappoggio il piombo e quello è un è un controllo che noi facciamo continuamente ma nel momento in cui chiudiamo il mulinello come fai a sapere esattamente se il tuo piombo rimane sempre là no io allora poi io non cioè quando pesco se pesco a 20 a 30 a 40 metri cioè se il fondo cambia di profondità io non è che faccio variare la velocità la barca o faccio cambiare c'è io l'unico controllo che ho e far battere il piombo sul fondo dopo che lo faccio fare due tre volte sono sicuro che sono là molto vicino al più al fondo ma non c'entra qual è l'inclinazione del filo che mi entra in acqua perché se sto pescando a 40 metri è normale che alla stessa velocità il filo risulterà più alzato se sono a 20 metri risulterà più a piombo non è un indicatore che sono la profondità giusta quando è a 45 gradi dipende dalla velocità a cui sto andando e la profondità operativa a cui sono mantenendo la velocità costante a seconda della profondità mi cambia l'inclinazione del filo ma se io batto il piombo sul fondo una due tre volte sono sicuro che il piombo è lì non è che dopo si alza di nuovo basta sicuro sei sicuro per cinque secondi dopo dopo il quinto secondo non sei più sicuro perché se la tua barca sta andando un po troppo veloce no no ma io parlo velocità costante cioè senza che cambi la barca la velocità non cambia non cambia la velocità non cambia la corrente se cambia non cambia la corrente non non cambia niente praticamente non siamo a pesca perché sei benissimo che e la corrente cambia la profondità cambia c'è queste variazioni sono una dietro l'altra cioè possiamo parlare io e te che andiamo a pesca da tanti anni che queste cose possono non 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 imbrogliarci però per una persona che stai iniziando secondo me diventano tante variabili tante varianti complicate quindi sicuramente devi continuamente controllare il fondo io da quello che dire l'inclinazione del filo non è determina c'è per me non è che io non controllo l'inclinazione del filo stai attento se io io dico l'inclinazione del filo io la controllo ma mi serve per essere sicuro che sto andando alla velocità giusta cioè se il filo mi si alza vuol dire più che altro che sto accelerando aumenta la corrente io posso rimanere vicino al fondo ma sono una velocità troppo elevata se il filo invece mi va in verticale posso comunque rimanere vicino al fondo e tu sai meglio di me che anche con la barca ferma col filo perfettamente verticale io posso stare vicinissimo al fondo senza nessun dubbio c'è tutto però quello però vuol dire che se il filo sta in verticale vuol dire che la mia velocità è troppo bassa allora diciamo che a me l'ingresso del filo in acqua non serve tanto per calcolare diciamo la profondità del piombo ma mi serve invece per calcolare la velocità corretta della barca ecco questa forse è la differenza tra il tuo sistema il mio no ma secondo me stiamo dicendo la stessa cosa in modo semplicemente diverso perché con le due cose sono strettamente legate non le puoi scollegare quindi stiamo dicendo la stessa cosa in due modi completamente diversi perché quando la velocità è giusta tu rimani a quella profondità quando la velocità non è giusta se sei troppo veloce il piombo sale se invece vai troppo lento il piombo per assurdo si appoggia sul fondo e rischi di arroccare quindi stiamo praticamente dicendo la stessa cosa in due modi completamente diversi quindi il modo di traina secondo me è lo stesso abbiamo due modi diversi di vedere concetti diversi di ragionarlo però alla fine stiamo dicendo la stessa cosa ok andiamo avanti come sempre andiamo avanti allora ripeto io tendo a stare sempre molto vicino al fondo quando pesco soprattutto il denti anch'io perché la mia convinzione che lui sia un po più un po meno sospettoso però questo questo raschiare spesso il fondo bisogna stare attenti perché potresti perdere svariati i piombi guardiani questo è una problematica di stare molti molto vicino al fondo in una in una secca anche perché poi ci sono degli sbalzi sali scendi e se chi sta guidando non ti avverte velocemente che il fondo è sceso il fondo è salito spesso e volentieri qualche disastro noi lo combiniamo come sempre ecco qua questo è il mio assetto pescante che può essere variato a seconda di cosa facciamo però normalmente io ragiono su queste su questa slide qua allora iniziamo dal trecciato poi canemolinelli li lasciamo per ultimi alla trecciato io ho messo un 40 libre secondo me il 40 libre è la giusto compromesso tendo avere quasi sempre 40 libre perché ho tanti altri amici che qualcuno usa il 35 qualcuno usa il 50 però ho sempre trovato dei problemi sia nell'uno che nell'altro quindi mi sono assestato sul 40 libre che è un filo che ti permette ancora oggi di pescare anche a profondità importanti con poco piombo tiene più o meno qualsiasi pesce perché con un 40 libre siamo riusciti a prendere anche qua anche qualche tonno quindi se riusciamo a prendere un tonno di 40 50 kg tutti gli altri pesci tecnicamente dovremmo riuscire a prenderli poi andiamo su un pre terminale in questo caso abbiamo meglio messo un premiale in fluorocarbon dello 0 62 però si può usare tranquillamente anche un nylon perché non tutti amano il fluorocarbon qualcuno preferisce avere un piccolo sfogo di elastico e quindi possiamo ragionare anche su un nylon sempre 0 62 una piccola girella per scaricare e poi andiamo a mettere il nostro il nostro terminale il nostro terminale come vedete quello è rigorosamente in fluorocarbon abbiamo messo da 1 0 50 1 0 70 perché in base alla stagione in base alla situazione noi possiamo andare a utilizzare dei fluorocarbon diversi adesso qui per esempio vi faccio vedere io per esempio questi sono già travi pronti che io ho sempre in borsa ovviamente con ogni colore 0 52 0 57 66 no scusate 62 e 66 questi sono normalmente i terminali che utilizzo in alcune situazioni si potrebbe usare anche qualcosa di più di più spesso però devono essere proprio delle giornate dove veramente il pesce mangia oppure dove ha avuto tante tante rotture perché picchiano sul fondo allora qui da noi in secondi dove peschi purtroppo c'è quel problema io non vado mai sotto il 66 allora adesso vi dico invece la mia scelta quando vado a pescare identici il trecciato come ha detto fabrizio assolutamente d'accordo 35 40 libre io sono più tarato sui 35 a dire il vero per quello che riguarda il piombo e il nylon sul piombo ovviamente lì non cambia nulla la prima differenza abbastanza secondo me importante è la parte del shock leader che non è di 10 metri ma è appena di diciamo 5 6 metri dopodiché ho la girella e la girella molto spesso col floro carbon soprattutto ultimamente ho fatto di terminali molto piccoli parlo di terminali lunghi 40 centimetri cioè proprio un po di più rispetto alla lunghezza del calamaro dell'esca che sto usando anche 30 centimetri e uso il terminale la parte prima della girella come terminale vero e proprio questo perché perché così riesco a mettere un filo un po più spesso e un po più spesso vuol dire comunque massimo un 0 67 non vado mai oltre sul terminale due ami però riesco a scendere un po su quei su quel floro carbon che metto come shock leader e riesco a scendere a un 0 52 ecco con questo tipo di settaggio ho visto che riesco a pescare molto molto meglio molto di più o molte più ferrate cioè il fatto di avere shock leader più sottile e che arriva molto vicino all'esca mi permette di dare un movimento all'esca secondo me più invitante poi un'altra cosa non voglio lasciare troppi metri tra l'esca e il piombo quando sono a 6 metri 6 metri e mezzo già mi sembra una misura sufficiente anzi forse anche un po troppo si potrebbe d'inverno soprattutto scendere anche a 4 metri questo perché primo motivo perché quando batto con il piombo sul fondo in realtà anche faccio un po di richiamo quindi riesco a trarre l'attenzione dei pesci che stanno intorno e magari vengono a vedere cos'è e quindi avere magari un'esca che passa un po più vicino potrebbe essere meglio poi ho un po un controllo di dove deve stare l'esca perché quando ce lo lontana a 16 metri rispetto al piombo questa comunque la possibilità di muoversi abbastanza anche soprattutto se facciamo una traina abbastanza lenta e questo vuol dire che può andare in qualche posto che magari preferisco non vada cioè voglio che rimanga nell'assetto di pesca dove l'ho messa io poi ultima cosa io spesso pesco con due canne avere terminali troppo lunghi dietro il piombo vuol dire aumentare ancora di più la possibilità di andare ad intorcolare le due canne cioè andare a fare un garbuglio tra i due terminali perché ovviamente se peschi coi calamari è abbastanza difficile ma pescando magari tante volte con altri pesci come i sugarelli come lo sgombro e questi nuotano e soprattutto una velocità un po bassa possono comunque in qualche modo anche andarsi a dar fastidio uno con l'altro ecco riducendo questa cosa ho visto che ho migliorato l'assetto di pesca e anche le ferrate sono aumentate ma come dice giustamente fabrizio dopo ognuno ha la sua zona di pesca e la sua tecnica io se vado a pescare con oltre un 0 70 sopra la mia esca ho difficilmente un attacco da un dentice veramente rarissimo devo stare a un 0 67 massimo meglio un 0 62 e quindi shock leader mi passa a 0 52 allora ecco qua qui abbiamo due terminali il primo un terminale classico quindi amo ferrante e trainante se volete poi vi andiamo a far vedere anche tutti quanti i prodotti che noi andiamo a utilizzare adesso ma io voglio vederli guarda troppo curioso ok vi faccio vedere allora questo è un amo che io ho accuratamente ricoperto col teflon fino a dentro l'asola in modo tale che il filo camminando lì dentro non si rovini perché spesso e volentieri è proprio l'ammo che rompe il nostro terminale e poi una volta che io vado a utilizzare questo elastico che è un elastico da rubazien da 1.2 con cui leggo all'esterno c'è l'elastico all'interno c'è il teflon l'amo sarà perfettamente scorrevole e rimarrà anche bello duro per poterlo poi andare a regolare perché non c'è niente di peggio che un amo scorrevole che sia troppo lasco perché cosa succede quando il dentice andrà o il dentice o qualsiasi altro pesce andrà a mangiare su quell'amo lì magari l'amo scorre subito il pesce sarà semplicemente punto ma non sarà mai ferrato nel momento in cui noi gli lasciamo una microsecondo di bando lui si stacca questo capita spesso e volentieri quando l'amo non è bello tosto quindi teflon è elastico del rubazien per me sono due cose vincenti poi andiamo a vedere al centro la perlina morbida queste sono delle perline di tubertini in questo caso sono fluo ma potete anche mettere delle perline normalissime sempre gommose come salvanodo perché spesso e volentieri l'amo trainante picchia sul nodo dell'amo ferrante e li può spaccare quindi il salvanodo ci potrebbe salvare un pesce ok e poi andiamo a montare il nostro amo ferrante in questo caso sempre 51 80 io uso 50 80 e 51 11 come come trainante però si possono usare altre anche tantissimi altri ami come esempio so che davide ama il redentex plus un altro amo molto bello noi ne abbiamo tanti io personalmente sono affessionato agli owner rimango con quelli perché non mi hanno sempre dato grandi soddisfazioni e quindi però la verità è che ci sono almeno in commercio dieci anni che si possono utilizzare per dire il redentex a me piace molto perché tra l'altro ha una teflonatura cioè la superficie del redentex è teflonata a una specie di prodotto sopra che che una specie di teflon infatti il mio sistema di per far permettere l'amo e farlo scorrere sul terminale anche qua è un po diverso rispetto a quello di fabrizio praticamente si tratta io prendo l'amo ci infilo intorno al amo infilo l'amo all'interno di un tubetto in questo modo passo dentro il il mio filo quello che va a essere il terminale doveva legato anche l'altro amo ovviamente e sopra il tubetto vado a stringere con un filo elastico semplicissimo facendo tantissimi giri perché il filo elastico non ha tanta forza ma ogni volta che si c'è quando si fanno tantissimi giri diventa comunque molto molto forte molto molto stretto utilizzando gli ami redentex non ho il problema di rovinare il teflon perché non ho il problema di rovinare il floor carbon perché proprio l'amo è scivoloso quindi non succede nulla e comunque l'elastico sopra non si rompe perché c'è il tubetto questo è un sistema che ho sviluppato e devo dire mi trovo molto molto bene anch'io uso una perlina morbida alla fine e dopo c'è il lamo finale con il suo nodo che nodo usi tu un fabrizio alla fine qua sta volando tutto stavo cercando mentre tu parlavi stavo cercando nella mia borsa da traina senza grande successo i tubicini per farli vedere eccoli qua questo è il tubo il classico tubicino verde in kevlar non so se tu utilizzi questo questo è durissimo io io uso il tubetto in silicone per fare quel lavoro sopra l'amo non riesce a infilare l'amo su quel tubo lì di te di kevlar no ci riesce anche in questo già ce la fai questo indistruttibile altrimenti si usa il classico tubicino in silicone anche quello va benissimo allora io normalmente per legare l'amo ferrante faccio un normalissimo palomar nodo facile semplice e faccio un palomar sia l'amo sia la girella che vediamo sulla sinistra secondo me è un nodo abbastanza buono poi io mi sono abituato ultimamente faccio sempre derivato dalla mia pesca al drifting al tonno che come sai è una mia passione io uso uso praticamente da tanto tempo ormai sempre un nodo al barella per un motivo molto semplice ho notato che il nodo al barella mi mi dà un po di elasticità al nodo cioè quando l'amo è preso da qualche parte se devo ferrare o se c'è un colpo secco il nodo al barella lo ammortizza essendo tipo una molla riesce ad assorbire un po assorbe un po meglio rispetto ad altri nodi e ho visto che mi tiene molto di più al nodo ovviamente anche lì bisogna mettere una protezione prima del nodo per evitare che il lamo possa in qualche modo andarci a sbattere ma anche lì uso normalmente un pezzettino di tubetto al silicone oppure appunto una perlina però il nodo al barella devo dire mi ha dato delle grandi soddisfazioni in questo tipo di pesca ce ne sono tantissimi io conosco mille persone queste mille quasi tutti fanno nodi diversi quindi nodo del tubicino del bruco ce ne sono migliaia quindi diciamo che dovremmo fare una puntata solo sui nodi assicuro per metterla in modo bisogna farla andiamo avanti a vedere la seconda il secondo calamento questo è un calamento con tutti e due gli ami fissi come vedete ne avevamo già parlato in cui in qualche altra puntata questa è la girella che utilizzo vedete che a questa questo nel cerchietto questo anellino leggermente più grande di quello di sopra e quindi riusciamo lì sia ad infilarci un amo ovviamente aprendo l'amo con cautela e infilandocelo dentro e allo stesso tempo possiamo andare a infilare il nostro filo per andare a montare il secondo amo e quindi avremo due ami fissi ve lo faccio vedere meglio perché nella scatola non si vede questo è un cordino da assist 180 libre ma c'è della bkk ma ce ne sono tanti tipi in giro rossi bianchi e quindi avremo gli ami tutti e due fissi ovviamente qua sarà un po più difficile mettere esche diverse perché ovviamente dovremmo avere degli ami più o meno lunghi oppure si può utilizzare la tecnica come quando si pesca in verticale far girare un pezzo di cordino intorno all'amo che c'è prima e accorciare il il cordino stesso e quindi riusciremo a mettere magari esche più o meno grandi sono stato chiaro o assolutamente ok questa seconda molti la preferiscono perché avendo due ami fissi sei sicuro che quando il pesce mangia verrà ferrato in entrambi i casi no anche quando il pesce è abituato a cozzare con la testa con il muso sulle rocce in certe situazioni mi sono trovato proprio questo problema cioè si riusciva a pescare il dentice ma questo partiva subito contro la secca e andava a sbattere sulle rocce me ne accorgevo perché si sentiva proprio fino anche ad riuscire a spaccare il terminale tra l'altro dovremmo parlare un po dopo abbiamo già un video penso pronto di come si fa per allontanare il pesce dai pericoli che abbiamo sott'acqua quindi l'assetto giusto in barca c'è la traina il dentice è una cosa molto complessa può essere semplice tanti la fanno molto semplice ma se si vuole arrivare ai risultati ottimali bisogna stare attenti a veramente tante cose e certe cose ci possono sicuramente aiutare sicuramente lo skipper e la barca può essere di grande aiuto nel dover tirare su un animale che può essere anche dimensioni considerevoli lo skipper è la parte più importante della traina senza alcun dubbio sei uno skipper che non è buono difficilmente prendere ai pesci come dico sempre quello che ha la canna è sempre quello che si diverte ma quello che fa il lavoro sporco è quello che guida sì sì ma anche lavoro più importante poi un'altra cosa fondamentale sul discorso della traina il dentice è il posto dove stiamo trainando a meno che di non trovarci in una situazione in cui abbiamo un fondo per esempio ghiaioso con tante rocce che escono di tanto in tanto e quindi possiamo trainare un po così andando semplicemente dritti se dobbiamo costeggiare cioè stare vicini a una costa o seguire una battimetria su una secca diventa veramente complicato se non abbiamo una mappatura del fondo o un relitto o un relitto sì anche voi il relitto è già un po più facile perché metti un po di mark tutto intorno e dopo è abbastanza semplice seguirlo tutto intorno però per esempio fare un pezzo di costa dove il fondo è veramente vario se non si ha un sistema per fare una mappatura diventa veramente difficile trainare più che altro perché non si è in pesca cioè se noi non teniamo le esche vicino alle zone buone dove ci dovrebbero essere i pesci è veramente difficile trovarli e farli mangiare allora qui entriamo nel distoccorso esche e quindi iniziamo a parlare ovviamente del calamaro calamaro sicuramente è l'esca probabilmente che il dentice preferisce in assoluto per lo meno qui da noi abbiamo notato che col calamaro lui ci va dritto gli piace molto anche la seppia però non sempre quindi se io devo scegliere un'esca nel golfo di cagliari sicuramente calamaro e qui vediamo due due modi con cui noi andiamo innescare calamaro quindi nel primo caso con tutti e due gli ami rivolti verso l'alto mentre nel secondo caso abbiamo i due ami rivolti verso il basso diciamo che nel secondo caso sembra che gli ami siano molto più nascosti la verità è che gli ami non si vedono in nessuno dei due casi è solo una una scelta è la cosa importante nella prima nella prima foto per chi non è abituato dovete puntare l'amo trainante proprio sulla puntina della coda della testa prendi chiamata ma come volete perché l'accesso sono delle diatribe qual è la testa qual è la coda però dovete proprio puntarla pochissimo mentre l'amo ferrante dovete metterlo leggermente oltre gli occhi perché se voi pungete vicino agli occhi lui muore all'istante e quindi avete fatto un lavoro per niente poi non è che il calamaro appena morto non funziona è però averlo averlo vivo ha un grande vantaggio che il calamaro vivo si mette in assetto da solo quindi se anche voi accelerate un po troppo lui tenderà a girare però poi si rimetterà in assetto il calamaro morto invece ha bisogno di una velocità inferiore e il problema che si inizia a girare essendo morto poi lui non si rimetterà più in assetto quindi se l'avete vivo è decisamente meglio poi è vero che abbiamo preso anche identici col calamaro completamente congelato e però quello è è un è un bonus qua anche qui c'è una piccola differenza rispetto come pesco io perché già da qualche anno non metto più gli ami nella posizione come vedete qua la foto ma io punto l'amo sul calamaro sopra lo uso sempre la parte sopra del calamaro non li metto più sulla pancia e li metto attaccato praticamente al mantello in pratica subito dietro la testa faccio entrare l'amo per un pezzettino nel mantello e lo faccio tornare verso fuori quindi l'amo sta nella stessa posizione ma prendo solo il mantello e lascio la testa completamente libera e perché questo perché ho notato che il calamaro è vive di più ma soprattutto è molto più reattivo in acqua cioè riesce a muoversi a nuotare e molto più naturale con questo amo nei tentacoli spesso vedo che lui con i tentacoli cerca di toglierselo cerca di sfilarselo gli dà fastidio a volte gli rovina anche gli occhi e secondo me un'esca rovinata comunque pesca perché il pesce non è che se adesso il calamaro rovinato non ci dà però un'esca più vitale può essere secondo me più interessante però vai a mancare tutte le volte che ti attaccherà la testa rischi che ti manchi il lamo questo devo dire un'altra cosa che il 95 per cento delle volte io gli attacchi ce li ho sempre sul corpo e non sulla testa le tanute mi portano via la testa mi mangiano la testa i chi chi i tentacoli il il denti c'è un attacco molto diverso colpisce il calamaro a metà gli da 23 morsi e dopo di che si mette a mangiarlo c'è anche sui con i pesci questo è stessi stessi identico discorso non lo so sono due modi diversi di interpretare e interpretare la pesca non è che il mio è giusto il tuo sbagliato oppure l'inverso semplicemente ci siamo abituati a pescare in un modo diverso ci sta insomma è normale io una volta pescavo anch'io così dopo nel tempo ho visto che i calamari sai anche per un problema di durata del calamaro perché io tante volte soprattutto quando vado a dentici in agosto non è che prendere i calamari siano la cosa più semplice del mondo è veramente ce ne sono pochissimi e quei pochi che hai cerchi di salvaguardarli in tutti i modi quindi l'innesco deve essere velocissimo non è che si può rimanere la mezz'ora a pensare dove lo pungo dove non lo pungo deve essere molto veloce e cercare di dar meno fastidio possibile al calamaro e questo è il motivo per cui ho scelto questa tecnica che adesso la uso sempre anche d'inverno anche quando calamari ne ho tanti ho visto che comunque risultati ci sono tantissimi strike tantissimi strike a vuoto direi che non è mai per colpa di un attacco dato sulla testa l'attacco del dentice o meglio anche del corazziera alla testa avviene quando peschiamo con i totani allora devo darti da questo punto di vista sì sul totano io vado a fare l'innesco che hai fatto te perché il totano e quando pesco anche soprattutto a profondità più alte il totano ha proprio la peculiarità che il dentice o il corazziere gli va a dare sulla testa e non sul corpo però invece calamaro proprio il vero proprio calamaro tranquillamente sul corpo questi inneschi ovviamente valgono uguali per la seppia per la seppia allora nel caso della seppia solo testa solo tentacoli davanti solo c'è tutto uguale proprio nel caso della seppia assolutamente il corpo no lì il dentice da alla testa ecco un altro caso in cui il dentice attacca sicuramente la testa della seppia sul calamaro gli da almeno da quello che ho visto più volentieri al corpo questi dentici croati sono proprio strani ma vediamo qua il lavoro fatto bene è un innesco qui è un innesco come vi abbiamo fatto vedere nella parte superiore e qua è sempre lo stesso visto frontale vedete che l'amo entra dopo gli occhi se fate questo lui rimarrà tranquillamente vivo e non avrete il rischio di ucciderlo qui andiamo a vedere invece degli inneschi con i pesci perché ormai stiamo sempre più dimenticando il pesce ma la la realtà è che il pesce a seconda di dove sei o in determinate situazioni può fare la differenza nel golfo di cagliari col pesce difficilmente ti mangiano i dentici e ormai sono diventati schizzinosi da quando gli diamo le seppie stavano iniziando a mangiare poco le seppie ormai vedono i calamari col pesce è veramente difficile però in altre in altri spot abbiamo risolto proprio col masurello con tanti altri tipi di pesce perché il pesce ha un grande vantaggio che non viene attaccato dalle tanute quindi diciamo che riusciamo a tenere il pesce vivo molto di più rispetto a un calamaro e quando avremo un attacco ovviamente sarà un predatore i pesci in linea di massima si possono usare quasi tutti noi siamo abituati a usare i pesci azzurri che sono quelli che andiamo a prendere col sabicchi però la verità è che si possono usare anche pesci quelli classici come la la perchia pesci veramente che molte persone non utilizzano e invece sono esattamente nel nel menu del dentice quindi possiamo usarli fondamentalmente tutti in questo caso però andiamo a vedere come si possono innescare io ho messo nel primo disegno un noise ring noise ring è un piccolo aggegetto della stonfo che non è altro che una mollettina che va attaccarsi sul sul lamo e poi c'è un piccolo ferretto che va a entrare dentro il naso del pesce senza ferirlo il ferretto puttulo va a chiudere e il pesce sta nuota perfettamente come se non avesse nulla pensate che dopo ore di pesca siamo riusciti anche a sfilare il noise ring a far ripartire il pesce come se non avesse avuto nulla normalmente il noise ring si mette con un mono amo però se voi vedete nella nella secondo disegno io vi ho fatto anche un noise ring con un secondo amo che va a posizionarsi nella coda quindi diciamo che questo è molto più simile a un innesco classico di un pesce però con con l'ausilio del noise ring il pesce rimarrà vivo per per parecchie ore lo utilizzi davide allora sì io però non uso il noise ring ma uso direttamente il nodo catalina passando il filo cerato direttamente vicino all'orbita degli occhi sul naso anche e per colamo e legolamo e di solito non metto mai il secondo amo in coda a meno che il pesce veramente non sia un pesce molto grande ma in quel caso lì non lo uso per identici cioè cerco di selezionare un po l'esca non voglio esche enormi il lo sgombro di quattro retti lo uso per le ricciole ma non per lo non per identici insomma quindi cerco di usare dei pesci che siano di dimensioni così e uso solo l'amo catalina davanti colinesco catalina che è la cosa più io catalina non l'utilizzo perché elastico devi avere il lago molte volte lago usato la volta prima si è incastrato si è rovinato e quindi alla fine con noi ring ce l'ho pronto lo infilo e però è una scelta tantissime persone usano il catalina e quindi vanno bene entrambe problema il problema dell'esca tu hai detto prima detto una cosa io cerco di utilizzare pesci piccoli il problema che ogni tanto non troviamo quello che vogliamo è capitato di andare a pesca a cercare pesci piccoli invece abbiamo trovato solo sgombri grandi quindi devi sempre avere un asso nella manica per poterlo innescare perché ovviamente se hai un un surello uno di mezzo chilo devi per forza mettergli due anni perché sono rischi che lui te lo tagli a metà come spesso succede non è vero no perché infatti te l'ho detto anch'io che molto spesso attacca proprio a metà il pesce assolutamente infatti no se ho pesci grandi vado a cercare i pesci piccoli no non è di solito la pesca del dentice in tutta sincerità io la faccio al 99 per cento dei calamari e quindi e qualche volta le seppie però già più raro soprattutto calamari però qua dobbiamo pensare anche che magari gli amici che stanno iniziando a pescare magari non sono praticissime quindi magari non riescono a fare i calamari quindi comunque ma devono vedere i video che abbiamo fatto devono guardare ci vuole tempo li guardano poi andranno a pesca piano piano impareranno e poi avranno tutte le esche a loro portata però è ripeto è vero che ogni tanto capita anche a noi che andiamo a mare spesso di non trovare i calamari di non trovare pesci piccoli e quindi dobbiamo più o meno cercare di riuscire a trovare sempre una soluzione perché altrimenti il rischio di dover tornare a casa senza mettere un'esca in acqua assolutamente cosa abbastanza fastidiosa e nell'ultima figura abbiamo messo invece un proprio un classico innesco con amo trainante amo ferrante come si è sempre fatto per tantissimi anni prima dell'avvento del catalina del noise ring quindi amo ferrante amo trainante l'unica cosa è che qua il problema è che bucando con l'amo il naso del pesce spesso e volentieri il pesce tende a vivere molto poco o addirittura molte volte lo uccidiamo proprio mentre lo stiamo innescando quindi diciamo che questo è usato sempre sempre meno però se non abbiamo altro che tra l'altro questo ultimo innesco mi viene in mente diciamo di quello quello che mi viene in mente su questo ultimo innesco e l'innesco della guglia che è anche un'ottima esca per i dentici e lì sicuramente devi mettere due o addirittura tre ami perché la guglia essendo molto lunga io di solito pesco con due ami soli nel caso della guglia ecco la guglia è la seconda esca migliore dopo il calamaro quindi se magari non troviamo i calamari ma riusciamo a fare delle aguglie magari aguglie belle grandi io direi che per i denti c'è proprio il top che sono diventate molto più difficili da trovare rispetto al denti c'è il problema della guglia è quella che è un animale che troviamo sempre meno se voglio diciamo che bisogna andare nei posti giusti dove cercarla niente ci toccherà fare un video sulla caccia alla guglia sulla caccia alla guglia con la matassina non resta altro ecco qua abbiamo messo un video di un recupero di un dentice manca la prima parte la prima parte sicuramente è molto importante cioè davide poi se lo puoi fermare un attimo ok lo fermiamo allora la cosa importante quando andiamo a ferrare a stiamo pari di un dentice ma di qualsiasi pesce e dare una ferrata bella secca secondo me non bisogna mai dare ferrate di lato piccole ferrate ma quando il pesce ti mangia anche perché davide ha già detto prima che il dentice non è un pesce che mangia a diretto il pesce il dencio è spesso 20 anni fa due o tre attacchi sull'esca quindi tu hai tutto il tempo di vedere se hai la canna in mano te ne accorgi immediatamente ma anche se hai la canna nelle portacanne riesci a prenderla e a posizionarti quello che io dico sempre quando faccio i corsi è posizionare i piedi sempre frontali alla canna perché la maggior parte di persone ferrano lateralmente lateralmente è il miglior modo per perdere i pesci uno perché non riesce a dargli forza due perché non gli dà escursione e tre perché spesso e volentieri gli porti via proprio il pesce lateralmente quindi quello che io dico sempre a tutti è posizionarsi frontali e dare una ferrata secca lasciar mangiare il pesce lasciarlo mangiare tanto il dentice quando ha deciso mangia e parte io non ferro mai inizialmente lascio andare anzi spesso volentieri mi porto fino a fine barca proprio per dargli la possibilità di mangiare bene quando ha mangiato ferrata secca con frizione abbastanza chiusa e cerco di staccarlo il più velocemente possibile dal fondo perché quello è il momento più critico perché lui può strisciare sulle pietre come abbiamo detto prima e può anche può anche intanarsi io fino a qualche anno fa dicevo che il dentice non si intanava poi è capitato anche a me e quindi ho iniziato a cambiare idea non succede spesso però ogni tanto si intana anche lui nel momento in cui mai davide una piccola parentesi la frizione ho un po di esperienza perché ho portato parecchie persone a pesca con me e devo dire che i primi pesci vengono sistematicamente persi perché la frizione non è regolata allora o è talmente molla che ferrano e vedi la parrucca sul mulinello e non ferrano niente ovviamente quindi il pesce perso oppure ferrano e il mulinello è talmente chiuso che come parte il dentice fa la prima fuga spacca immediatamente il terminale ma perché i dentici soprattutto i primi 10 15 metri hanno una forza che è fenomenale se noi abbiamo la frizione completamente chiuso sul mulinello o chiusa parecchio più tutti i metri di filo in acqua più il pombo eccetera eccetera andiamo a dare una sollecitazione tale al nostro terminale che ovviamente salta bisogna regolarla nel modo corretto bisogna tenerla mediamente dura e nel momento della ferrata la posizione l'operazione giusta da fare come vi ha detto prima fabrizio è di bloccare la parte rotante del mulinello con il pollice ovviamente per pescare i dentici si usano a mulinelli rotanti si blocca con il pollice si ferra e dopodiché si lascia il pollice in modo che se il pesce parte e normalmente parte parte sempre abbia la possibilità di portare via un po di metri di filo se voi chiudete la frizione o lo volete fermare subito quasi matematico che andate a rompere quindi trainate tutto il giorno alla fine avete magari un bel risultato e lo andate a perdere proprio per la frizione chiusa allora il dentice normalmente fa tre fughe importanti noi dobbiamo cercare di contenerle perché bloccarle impossibile perché sì perché rompi non c'è slam mi rompi dobbiamo cercare di gestire la fuga quindi cercarla cercare di fargliela fare la più corta possibile senza farlo strisciare sul fondo questa diciamo è la bravura di chi ha la canna in mano e poi per il resto prima riusciamo a staccarlo dal fondo prima evitiamo rotture per sdruciamento sulle pietre questo si impara purtroppo ahimè con qualche rottura quindi la nostra esperienza purtroppo sono pesci che andiamo a perdere però dopo 1 2 3 se sei una persona intelligente capisci come funziona e diciamo in linea di massima se se tutto va come deve andare il dentice sale anche perché dopo con le due tre fughe il dentice tende proprio a a mollare quindi tende a combattere molto 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 meno e infatti qua possiamo andare a rivedere il filmato notate una cosa molto importante il gommone sta sempre andando in marcia quindi mai fermare la marcia del gommone perché colla con la marcia del gommone noi tendiamo a tenere molto più teso il filo e poi camminando è più facile che il pesce si stacchi dal fondo anzi ogni tanto se chi guida ti vuol venire in aiuto e ti dà poco poco di accelerata il pesce tenderà a salire non è una cosa particolarmente sportiva però quando sai che ci sono delle pietre delle guglie ogni tanto tendiamo a far salire e qui entra in gioco la bravura del di chi sta guidando perché ti deve dare un'accelerata senza esagerare e spostarti da le pietre più pericolose quindi cercare di andare verso la parte più profonda una cosa che avete notato è la tranquillità con cui io sto recuperando il pesce cioè la peggior il peggior nemico del pescatole da traina e la fretta una volta che noi abbiamo ferrato il pesce e l'abbiamo staccato dal fondo andiamo a recuperare con tranquillità perché accelerare le operazioni potrebbe semplicemente farci perdere il pesce quindi la calma nella pesca traina è fondamentale io ho visto persone che perdono proprio la la bussola ogni volta che vedono un pesce invece vedi quando qui noterai che proprio io chiacchiero parlo mi giro perché tanto è una pesca che va lenta cioè per portare un pesce da 50 metri devi del ci vuole il suo tempo inutile correre se ripeto chi sta guidando sta facendo il giusto quindi sta portando fuori dalla secca tu sei in totale tranquillità e poter gestire un pesce con tutta calma ti evita un sacco di errori parliamo un pochettino di attrezzature adesso vi faccio vedere alcuni prodotti che noi utilizziamo ovviamente iniziamo col trecciato adesso io faccio ad esempio un varivas p e 3 che è un 46 libbre un filo al top un 2 e mezzo siglo questi sono i fili che io personalmente uso se no abbiamo anche un p e 2 sempre della varivas che sono 37 e libbre questi fili sono veramente top avere un filo top cosa vuol dire che ti permette molte meno rotture e poi ti dura più nel tempo quindi quello che spendete all'inizio lo recuperate dopo perché un filo economico spesso e volentieri si rovina molto più facilmente oltre al nervoso di aver perso un pesce dovete rimbobbinare il vostro mulinello quindi comprate sempre attrezzature alto e a quel punto andiamo a vedere vi faccio vedere un altro un'altra cosa questo è sempre varivas però è un nylon uno shock leader 60 libbre quindi uno 0 62 abbiamo detto che lo shock leader si può usare sia il nylon sia il floro carbon floro carbon noi facciamo sempre saremo monotoni vedere l'fxr che a oggi secondo me è il filo migliore che c'è poi ce ne sono 10.000 tipi in questo caso come al subito vi ho fatto vedere un 66 e un 52 che sono i fili diciamo i due poli per costruire un trave gli ami li abbiamo detto e ridetto quindi sono sempre 51 80 ssv 51 11 e vi faccio vedere noi abbiamo i nostri piombi guardiani plastificati di matti per la pesca e ne siamo molto orgogliosi perché sono bellissimi sì ma è un'altra cosa vabbè uno viene viene in sardegna ci saluta e se li prende vi faccio vedere un'altra piccola cosa di cui non abbiamo forse mai parlato ve lo faccio vedere così questo è uno sgancio rapido della jazz sui che semplicemente con un dito lo vedete questo è molto comodo molto comodo sotto c'è la girellina e comodo perché tu riesci a sganciare il piombo utilizzando una mano sola una mano sola e quindi se sei da solo con una mano tieni la canna e con l'altra mano sganci perché la parte più pericolosa è proprio quando andiamo a sganciare il piombo guardiano quindi se lo facciamo da soli dobbiamo stare attenti ma anche quando c'è il nostro compagno di pesca perché cosa fanno sono se normalmente il compagno di pesca cosa fa si allunga prende il filo lo abbassa e sgancia il piombo guardiano poi lascia il filo in quel momento c'è un attimo di poca tensione e molte volte il pesce si perde ok la cosa assurda è che il dentice pallona molte volte riesce a ripartire noi lo perdiamo però poi magari va a morire perché magari dopo un'ora dopo due ore ripallona tant'è che è capitato di trovare sia identici che cernie aggallate perché la vescica natatore ormai sera sera era uscita e quindi state molto attenti quando sganciate il piombo guardiano cercate di non togliere mai la trazione al filo un altro un'altra chicca che vi do è allora questo è uno sgancio rapido classico ok usate sganci rapidi molto grandi in questo caso questo guardate è lungo variati centimetri perché anche con questo noi riusciremo con una sola mano ad acchiapparlo ea sganciare se noi andiamo utilizzare dei sganci rapidi molto piccoli con una mano non ci riusciremo mai e quindi dovremmo utilizzare due mani con tutte le problematiche del caso è tanto il piombo guardiano non è una cosa che dà fastidio quindi avere uno snap uno sgancio rapido più grande da terretta me che non vi dà nessuna controindicazione un altro piccolo oggetto molto bellino è quello che si chiama si chiama pizzo lo è questo qua si va a mettere nella parte finale della canna adesso come al solito non riuscirò a staccare questa perché eccola qui lo andremo inserire qua per fare dei combattimenti con pesci molto importanti magari non sarà un dentice però se ci dovesse capitare una ricciola un tonno questo giochino qua ti evita un sacco di dolori perché quando stai mezz'ora tre quarti d'ora con la canna piantata sulla sulla pancia molte volte si fa male torni a casa quindi quindi questo piccolo oggetto ci può salvare poi la cosa bella in rispetto a una cintura non occupa spazio e la possiamo appoggiare sulla console perché il problema delle cinture che tutti ce la portiamo ma chi c'era nel gavone chi c'era nella borsa e quindi praticamente non serve a nulla perché non riesce a prenderla il pisolo te lo appoggi sulla console allunghi la mano e lo metti in un secondo quindi un'altra piccola trucchettino iniziamo a parlare di canne mulinelli allora questa è la mia attrezzatura standard io uso un finnor un ma 12 lo uso da una vita ed è uno dei miei mulinelli preferiti molto piccolo molto prestante è abbastanza leggero in questo caso ho messo la mia fenice 8 è una canna molto bella molto divertente perché se noi andiamo a parlare di dentici il denti c'è un bel un bel combattente ma è un bel combattente se noi utilizziamo delle canne non troppo non troppo pesanti io vado a mare per divertimento quindi mi voglio godere la fuga mi voglio godere il recupero se utilizziamo canne troppo dure tipo 20 libri 30 libri sì pesci li tiriamo su però il divertimento secondo me è dimezzato quindi io tendo a utilizzare sempre cose abbastanza leggere non so se davide d'accordo con me assolutamente d'accordo assolutamente anche io uso canne molto leggere con schiena io comunque canne fast non progressive perché se no non riesci comunque a ferrare il pesce quindi deve essere fast però io mi sono innamorato adesso di questi di questi fusti monofusti che sono sottilissimi che hanno tanta potenza e mi diverto tantissimo con quelle canne devo dire trovo molto bene io in questo caso vi ho fatto vedere la mia canna la mia fenice artico che una canna comunque molto costosa però se vogliamo dare un'altra indicazione di una canna che costa pochissimo e funziona perfettamente è una vitality di tubertini 6 12 o 12 20 sono le canne con cui io porto tutti i miei corsisti a mare senza nessun problema se una canna che costa tipo 100 120 euro ti tira su qualsiasi pace se è trattata bene non si rompe mai se è trattata male come tutte le canne si può rompere però la realtà che oggi con con circa 100 120 euro ti compri un'ottima canna io penso che anche per questa puntata abbiamo finito ci vediamo martedì prossimo alle sette di mattina allora ciao fabrizio matti svegli a che ora mi devo svegliare è molto presto molto presto va bene la facciamo per voi a martedì mattina ciao ragazzi